L'azienda è fatta soprattutto di persone che debbono essere trattati come esseri umani, perché io oggigiorno vedo che c'è proprio mancanza di fratellanza, di unione, di comunicazione, che è fondamentale, specialmente quando tu vivi all'interno di un'azienda, perché è più il tempo che tu passi assieme che quello che passi a casa tua, capisci? Quindi per me è veramente molto importante. Lei e Arianna Costarelli, titolare insieme al fratello di un'azienda pesarese che si occupa di ascensori, hanno 30 dipendenti, 15 dei quali sprovvisti di Green Pass, il certificato verde, che dal 15 ottobre sarà obbligatorio anche per accedere ai luoghi di lavoro. Nel settore privato i controlli spettano ai datori di lavoro, che con atto formale possono anche individuare i soggetti incaricati dell'accertamento. Il governo ha precisato che se le verifiche vengono effettuate a campione sui dipendenti, le aziende non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass, a condizione che siano stati rispettati i modelli organizzativi. In caso contrario, i datori rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro. Invece il lavoratore senza passaporto verde incorre in una multa che va dai 600 ai 1500 euro. Arianna, come avete appreso la notizia e che cosa comporterà per voi questo obbligo? Allora, la notizia è stata appresa ovviamente non con gran piacere, perché come comprenderai c'è trovarsi dall'oggi al domani con degli obblighi pesanti e diventa difficile. Abbiamo subito parlato e radunato i nostri ragazzi, con i quali abbiamo un buon rapporto e con loro abbiamo deciso una strategia, perché ovviamente in azienda ci sono vaccinati e non vaccinati, per cui sai, poi devi anche stare un attimo a guardare la sensibilità delle persone. La scelta che è stata fatta è stata quella di radunare i green pass di tutti, di fare i tamponi per i ragazzi che non si vaccineranno, perché abbiamo una buona metà dei ragazzi che hanno deciso di non vaccinarsi. Per quanto riguarda il costo, io ho parlato con mio fratello, abbiamo deciso di assorbirlo noi come azienda, però come ti dicevo prima, non abbiamo avuto un attimo di dubbio, perché capiamo che 200 euro, 250 euro per una persona che prende uno stipendio sono tanti. E tutta questa discriminazione, perché come ti dicevo appunto prima, mi sembra diventata un'apartheid sanitaria, io la trovo veramente, veramente, non lo so, guarda, a volte non ho neanche il termine, perché userei dei termini troppo forti che non mi piace neanche usare, visto il periodo che c'è e la cattiveria che sta montando nelle persone, ma perché è una cattiveria veicolata dai media. Ed ora come si sono organizzati i suoi dipendenti per i tamponi? Allora, loro si sono organizzati che tre volte alla settimana chi non ha il vaccino andrà a fare il suo tampone, lunedì sera, mercoledì sera e venerdì sera solo le persone che fanno la reperibilità, perché noi lavoriamo tutti i giorni, compreso sabato e domenica, e chi invece non sarà in reperibilità andrà al sabato sera, così il lunedì sarà coperto. Quindi diventa anche una gestione doppia per quanto riguarda l'organizzazione, la logistica. Io poi prevalentemente faccio logistica, perché gestisco i ragazzi, gli interventi, che da noi ce ne sono tantissimi, perché facendo assistenza capisci che buttiamo giù un programma di lavoro il pomeriggio alle 4, già la sera alle 6 diverso, la mattina alle 8 cambia nuovamente. Quindi dobbiamo cercare di incastrare un po' le cose. Secondo voi quali sono i rischi? Queste nuove disposizioni possono anche compromettere la competitività delle aziende? Allora, sì, perché per riuscire a gestire bene tutto devi avere una struttura che ti supporti, e una struttura genera dei costi. Quindi o tu sei un'azienda strutturata, e quindi se sei strutturata puoi permetterti di far determinate cose, se non sei strutturata diventa molto più faticoso, perché capisci che comunque sia il costo del personale, cioè assumere una persona che faccia solo quello è difficile. Ovviamente poi c'è proprio il problema del nostro momento storico, dove secondo me tutto quello che viene fatto ad alti vertici viene fatto per eliminare il più possibile le piccole e medie imprese, e mettere sia il know-how che tutto quello che è stato fatto nelle mani dei grandi gruppi. Difatti io, quando abbiamo le riunioni di associazione nostre, io più volte ho spinto con i miei colleghi per dire non ci facciamo portarvi a tutto, siamo in pochi, abbiamo un mestiere di nicchia, scuole che formano non ce ne sono, cerchiamo di unirci, magari costituiamo una nuova SRL, ognuno si tiene le sue aziende, perché poi c'è la paura di, ah ma se io mi metto con te tu mi prendi quello, mi prendi quell'altro, perché purtroppo quando c'è una mancanza di cultura alla base poi c'è una mancanza di consapevolezza. Però questo non si riesce a fare. E quello che mi dispiace, e sono convintissima, che svenderemo tutto alle multinazionali. Tutti, tutti faremo così. Cioè la piccola e medie imprese da qui a 10-15 anni secondo me andrà a sparire in Italia. Ed è triste, è veramente tristissimo, perché come i medici secondo me all'inizio avevano il potere di poter fermare questa cosa se si sarebbero opposti, con coscienza ovviamente, noi potremmo fare la stessa cosa, cioè non dare l'Italia in mano a chi fa gola, perché c'è parecchia gente a cui l'Italia fa gola. Grazie. 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 Grazie.